Benvenuti cari followers, domani, martedì 27 febbraio 2024. In Italia ci sarà un fortissimo temporale, con abbondanti quantità di pioggia e neve, ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di sostenerci innanzitutto tramite premendo il pulsante Mi piace per questo video, per motivarci a continuare e fornirti il meglio se e come preferisci. Vedi sulla mappa davanti a te che le aree colorate in blu saranno fortemente colpite da un forte temporale domani, martedì, che sarà accompagnato da forti venti e abbondanti pioghe, con abbondanti nevicate sulle Alpi e nelle zone prealpine. Domani, martedì, si prevede pertanto pioggia molto forte accompagnata da forti temporali e grandine, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto, Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna. Qualsiasi altra notizia importante, proveremo ad aggiornarvi più tardi. Qualsiasi altra notizia importante, proveremo ad aggiornarvi più tardi.